In questi giorni i colori cambiano in continuazione. Qui in campagna eravamo una zona gialla, ora siamo una zona rossa con la paura di diventare una zona strarossa. Il quadro della nostra nazione è in costante evoluzione, da un giorno all'altro cambia tutto. Ma Gesù non cambia. Ebrei 13, versetto 8. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù non cambia colore, Gesù non cambia comportamento, Gesù non cambia cuore. Allora però la domanda è com'è Gesù? Com'è la seconda persona della Trinità nella sua essenza, nel suo cuore? Per rispondere a questa domanda, 23 responsabili di chiese e ministeri qui in Italia si sono messi insieme per registrare una serie di meditazioni. Una serie di meditazioni ispirati da un nuovo libro mansueto e umile. L'autore è un americano, Dane Oatland, e il libro è stato tradotto e pubblicato qui in Italia da Coram Deo. E in questo momento storico, dove molte delle nostre chiese non possono incontrarsi fisicamente ma solo virtualmente, noi speriamo che queste meditazioni possano essere una benedizione per voi. Saranno disponibili gratis, pubblicati un giorno alla volta dal primo al 23 dicembre. Ci accompagneranno a Natale, a quel momento quando Dio si dimostra in un modo meraviglioso di essere mansueto e umile. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!